Settimana caratterizzata dalla Bora sulla regione con raffiche che hanno raggiunto anche i 130 km orari, dovuto alla presenza di una depressione. Questa depressione sul Martireno si sta allontanando e ci lascerà a condizioni più tranquille nel fine settimana. Nella giornata di sabato in quota correnti da nord ovest abbastanza asciutte, garantiranno bel tempo al mattino con cielo sereno poco nuvoloso e temperature intorno allo zero in pianura, di poco sopra sulla costa. Verso sera di sabato in arrivo un fronte piuttosto debole e veloce che porterà un temporaneo aumento della nuvolosità, ma non sono previste precipitazioni. Per la giornata di domenica correnti in quota sempre dal nord ovest porteranno a tratti dell'umidità che potrà favorire la formazione di nuvolosità. Avremo pertanto cielo da poco nuvoloso a variabile, non sono previste piogge né meno nevicate e le temperature rimarranno stazionarie. I valori massimi domenica saranno intorno ai 10 gradi sulla pianura e sulla costa. L'inizio della prossima settimana sembra essere caratterizzato dall'anticiclone africano che riporterà stabilità atmosferica e nuovamente condizioni di inversione termica.